20 palla filtrante per Maroder alle soglia dell'area di rigore nuovamente 20 cerca lo spazio per il tiro lo effettua tiro debole che rimbalza davanti al portiere Traore e sì dell'Orione scusate qui abituati a commentare il campionato attenzione a questa opportunità per la rappresentativa Maliana rinvio della squadra Maliana palla catturata da Antolini Guidi lavora un buon pallone Maroder parte il tiro che esce sulla destra del portiere da parte del numero 7 del Mali poi capovolgimento di fronte 20 pallonetto e palla che esce oltre la traversa per l'esecuzione del tiro Zaffiro parte 20 il pallone in rete ha segnato Nicola Sventi vediamo attaccare adesso la rappresentativa Maliana parte un cross interessante pallone controllato tiro parata di Spaziani fa 20 benissimo per Piperno che scende sulla sinistra va sul fondo cerca lo spazio per il cross lo effettua colpo di tacco ed è un grandissimo gol quello realizzato da Moretti e Camara dunque questi gli uomini a disposizione di Giallo che potrà attingere appunto alla panchina per cambiare qualcosa parte un tiro intanto dei vostri schermi vediamo un pallone buono per questa conclusione che poi stava per tramutarsi in un assist e di rigore il portiere sbaglia il passaggio Faria si in possessa del pallone vediamo Ojeda fra due avversari poi carica il destro Moretti si va da Moretti lungo la linea esterna del campo si accentra Moretti resiste all'attacco di un avversario pallone profondo per Ojeda è solo il tiro e la rete di Ojeda 3 a 0 servito in area di rigore il numero 19 che aveva concluso alto buona opportunità questa vediamo la battuta del calcio d'angolo traiettoria ad uscire il colpo di testa e la parata di Spaziani uno dei veterani del circuito dell'It addirittura presente dalla prima edizione dalla stagione 2009-2010 Simone Mininni il cross in area di rigore colpo di testa e pallone che esce non di molto ai 30 metri ancora Faria in possesso del pallone serve 20 pensa al tiro 20 arma il destro la conclusione palo e gol ancora 20 4 a 0 doppietta personale Punta Piperno palla sul sinistro perde forse l'attimo per il tiro poi eccola la conclusione da parte del numero 16 Tuncara di Mininni poi Maroder ancora Coulibaly il cross con l'esterno del piede destro colpo di testa parata di Spaziani tutto fermo per poi Tarquini palla riconquistata dai giocatori in maglia gialla e vediamo ancora Giara cerca lo spazio per il tiro esplode il destro ed è gol potrebbero crearsi Gabrielli elegantemente con il tacco poi lancia in direzione di Samba vuoto il portiere Samba porta vuota ed è gol Samba 5 a 1